hai fatto quello che volevo io? no la voce no 3,2,1,2,3 CONGIORNO ragazzi ragazzi oggi siamo ritornati qui con questo questo è un bellissimo video cioè apriremo le princess perle di neve appunto della tabam dove ci sono all'interno le principesse della Disney, quelle diciamo più famose ce ne sono in totale otto quindi noi oggi le apriamo e vedremo un po' cosa allora queste sfere non hanno, non sono, cioè possono possono essere sia un bracciale che semplicemente una sfera di neve oppure una palla tranquillamente una pallina quindi non si rompe quindi apriamo vediamo chi prende allora vai sasso, carta, forbici no, facciamo pari o dispari io pari 1, 2, 1, 2, 3 10 ah, vittorio non lo dai jasmine ok è stupenda c'è rimbalza e c'è il suo braccialetto con il suo scritto jasmine ok ok ora tocca a me e lei e lei quindi oh mamma mia guardate quando è piena di glitter che effetto fa aiuto vorrei bellissima bellissima cenerentola che bella che bella adoro 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 e appunto sul braccialetto sta scritto cenerentola si vede no scherzo da qua troppo carino non mi so dritta vai vai amore vai pocahondas allora non è una delle mie principesse preferite però va bene è bella carina raga lo sapete che io ho visto tutti i film della disney delle principesse eccetera però che bella c'è c'è quindi guardate che però ha una bravo non c'è l'uomo e quindi mi rimane che bella bella che bella che bello no non puoi guardare non guardare guardo che bella bella guarda qua che bella i glitter che scendono ma lei com'è bella no raga io adoro troppo cioè guarda i tagli delle corone è scritto e anche qui c'è scritto bella adoro adoro qui c'è scritto poca io vado questa ora rimangono le più belle direi no aiuto non riesco a curare ecco vai quale la voleva lei avrò dai oh no vabbè let's your white let's your cake no guardate quanto è bello il suo bracciale perché è trasparente lei è stupenda una luna poi andiamo avanti io poi no questa qui rapuncella la volevo aprire assolutamente la volevo io ti sembra tutto quello che volevo io no la volevo solo anche qui c'è Giulia Giulia che non hai visto no Giulia sta facendo brabetti ciccocco brabetti ciccoccoli ci vede scumofi mamma non viene tutto giusto ridiamo un'ombra pa ciccocco prendo lei aria e quindi non me la dire biancaneve biancaneve che bella la storia di biancaneve adoro ormai quella è la mia storia che ho imparato a memoria delle vabbè infatti aria cavallina guarda aria com'è bella che belli che vittor che scendono qui bianchi guardate ragazzi sono troppo belle tutte cioè tutti quanti tutte belle 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 che belle loro due sono le mie preferite o i belle no Giulia Giulia dai sono anche io sono una princess sono delle palline guardate uffa e quindi guardate guardate i braccialetti allora la mia preferita è rapunzel e cenerentola la miglia preferita è bell due ne puoi scegliere e cenerentola cenerentola piace a tutti e no ragazzi quindi questo era questo questo era il video appunto scrivete qual è la vostra preferita in un post di instagram perché noi metteremo un post di instagram con tutte queste belle sfere e appunto voi sotto quel post dovrete commentare con qual è la vostra sfera preferita inoltre vi diciamo che siamo in pigiama semplicemente perché è periodo di quarantena e facciamo cambi con i pigiami e non più con i vestiti ci cambiamo ma solo tramite i pigiami cioè levo questo metto un altro pigiama non metto una maglia non esiste proprio quindi fateci sapere appunto se anche voi trascorrete la vostra vita sempre il pigiama in questo periodo comunque noi vi mandiamo un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao ciao